Ciao a tutti e benvenuti in Tessilan News. Avete mai sentito parlare di un tessuto amico dell'ambiente ma anche molto confortevole? Benvenuti nel mondo del Tencel, un filato ecosostenibile, ritorto, morbido e brillante, composto da una fibra innovativa conosciuta anche come l'Iocel, prodotta dalla polpa di legno e di alberi quali eucalipto e faggio. Vediamo quali sono i suoi punti di forza ma prima analizziamolo nel dettaglio. 200 grammi per una lunghezza di 450 metri, 100% l'Iocel, il tutto concentrato in questo gomitolo. Un filato abbiamo già avuto modo di ripeterlo davvero straordinario, molto morbido e sicuramente anche molto semplice da utilizzare per i quali consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3-4. Come potete vedere è molto ritorto e credetemi davvero molto molto morbido. Consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 30 gradi, per i primi sicuramente meglio i lavaggi a mano, poi successivamente magari potreste tentare anche con quelli in lavatrice, non prima però di aver fatto un primo lavaggio con un campione per vedere effettivamente se il punto e la mano utilizzati per quella creazione consentono anche questa tipologia di lavaggio. Una volta fatto consigliamo di non utilizzare l'asciugatrice e di non utilizzare neanche il ferro da stiro. Non è possibile candeggiare ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta il tetracloretilene. Il Tencel ha a disposizione davvero tantissime varietà di colori, quindi scopriamoli insieme. Iniziamo con le prime 4 varianti di colore che sono il nero, l'ottanio, il salvia e il tiffany. Andiamo invece su tonalità che tendono un po' più al colore azzurro. Nel dettaglio abbiamo il blu, il carta a zucchero, il bianco e l'azzurro. Adesso un mix molto delicato, vale a dire il grigio perla, il beige, il cipria e il tortora. E concludiamo in bellezza con una vera esplosione di colori, vale a dire il cipolla, il rosso, il glicine, l'arancio e il giallo. Vediamo adesso quali sono i punti di forza di questo Tencel, oltre ovviamente alla vasta gamma di colori che presenta. Sostenibilità e impatto ambientale. Il Tencel è prodotto con un processo chiuso che ricicla acqua e solventi, riducendo ovviamente così l'impatto ambientale. Altro punto di forza sono il comfort e la traspirabilità. Il Tencel è perfetto per tutti quegli indumenti a contatto diretto con la pelle. Se volete quindi sentirvi coccolati, questo è il filato perfetto per voi, senza rinunciare ovviamente allo stile e alla qualità. Con il Tencel, moda e sostenibilità vanno di pari passo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di seguirci anche su tutti gli altri social, di leggere i nostri articoli sul blog per essere sempre al passo con la moda e avere tante nuove idee per tante nuove creazioni, e di seguire i Tessiland News per sapere tutto, ma proprio tutto, sugli articoli Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo Tessiland News. Ciao!